L'Unione Sindacale di Base interviene a sostegno dei lavoratori precari dei centri per l'impiego in vista dell'entrata in vigore del reddito di cittadinanza. Esattamente, decine e decine di lavoratori che negli anni hanno maturato anzianità di servizio, hanno maturato competenze e che sono immediatamente spendibili all'interno dei centri per l'impiego per un corretto funzionamento dei centri per l'impiego. Il reddito di cittadinanza è una misura che ha bisogno di personale qualificato, noi ce l'abbiamo, negli anni hanno già lavorato nei centri per l'impiego e chiediamo che venga riconosciuto loro il diritto di tornarci a lavorare affinché i centri per l'impiego possano essere immediatamente funzionanti, il reddito possa essere a tutti gli effetti una misura in grado da una parte di rispondere alle esigenze dei cittadini, ma dall'altra, soprattutto grazie alle competenze di questi lavoratori, essere lo strumento per permettere a migliaia di persone di trovare un giusto lavoro. Voi siete in attesa della composizione della nuova giunta regionale per chiedere l'intervento della regione? Sì, la misura del reddito presuppone che ci saranno nei prossimi tempi 4.000 assunzioni nei centri per l'impiego e queste assunzioni avverranno attraverso procedure concorsuali indette dalle regioni. Noi abbiamo già mandato una richiesta al Dipartimento Lavoro della regione Abruzzo e a questa richiesta abbiamo accompagnato una richiesta di incontro per chiedere al dirigente e comunque al prossimo assessore regionale con delega al lavoro di parlare della condizione di questi lavoratori e far sì che possano essere impiegati nei centri. Che cosa si attende adesso? Come me tanti colleghi aspettano di rientrare proprio grazie alla misura del reddito di cittadinanza che sarà attiva dal 6 marzo, per cui chiediamo alla politica, al prossimo assessore, al prossimo dirigente, al direttore del Dipartimento Lavoro di non disperdere tutto questo patrimonio di esperienza che abbiamo maturato negli anni. Noi sappiamo cosa fare e come farlo, per cui chiediamo solo alla politica di fare in fretta per far sì che sia la misura del reddito di cittadinanza, ma in generale anche proprio i centri per l'impiego possano tornare a dare risposte alla cittadinanza. Grazie a tutti.